Confronto fra Regione Puglia e IMSS sulle opportunità del reddito di dignità che la Regione sta mettendo a punto. All'incontro erano presenti il Governatore Michele Emiliano e il Presidente Nazionale dell'IMS Tito Boeri. Incontro ieri a Bari, nell'Aula Magna dell'Ateneo, sulle politiche di contrasto alla povertà tra quadro nazionale e proposta del reddito di dignità promosso dalla Regione Puglia e dall'Università degli Studi di Bari. Una occasione di confronto con Tito Boeri, Presidente Nazionale dell'IMS, sul reddito di dignità che è uno dei punti strategici del programma di governo regionale. Con il reddito di dignità in Puglia, ha detto Michele Emiliano, stiamo fondando una nuova era. La Regione Puglia sta per introdurre questa misura universale di contrasto alla povertà, non assistenziale, che promuove l'entrata nel mondo del lavoro delle persone che ne sono fuoriuscite o che non vi sono mai entrate. E' una sfida potentissima che mi auguro serva anche all'Italia come sperimentazione, visto che siamo l'unico paese d'Europa a non avere un reddito di reinserimento lavorativo di questo tipo. Il nostro problema, ha aggiunto Emiliano, è capire come, al miglior costo possibile, gestire la complessità strutturale di una misura che, applicata alla realtà regionale, rischia di sovraccaricarci, come è accaduto ad esempio con Garanzia Giovani, che almeno in Puglia non ha funzionato a dovere. Sebbene la Regione Puglia, ha insistito Michele Emiliano, abbia reagito bene alla crisi, dal punto di vista dell'aiuto alle imprese, dello stimolo della cultura imprenditoriale, della spesa dei fondi a disposizione, tutto questo non è bastato a contrastare la povertà. Anzi, abbiamo trovato come ulteriore difficoltà nel riprendere il normale ciclo economico il fatto che c'era una quantità di gente che non aveva denaro sufficiente per vivere. Essere qui significa sottoporre ad una verifica la nostra legge regionale. Ci sono tante cose che possiamo fare insieme, ha replicato Tito Boeri. La prima, perché in assenza di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà, oggi le uniche esperienze che si trovano a livello sistematico sono solo a livello locale, dove si è accumulato un patrimonio di conoscenze e di know-how. Quello che state facendo qui, con il reddito di dignità, è molto importante e sicuramente si possono trarre lezioni su scala nazionale. La seconda ragione è che ho speranza che il 2016 sia l'anno in cui verrà introdotto un sistema nazionale di contrasto alla povertà. Ho provato a guardare cosa succede alla povertà in paesi diversi, ha aggiunto Boeri, quando cale il PIL o aumenta la disoccupazione. Ebbene non è affatto detto che ad un calo del reddito nazionale o del PIL sia associato un aumento di povertà. Da noi invece appena cresce la disoccupazione, sistematicamente la povertà tende ad aumentare in maniera più forte che in altri paesi. In Italia la povertà è cresciuta soprattutto al di sotto dei 65 anni, perché al di sopra esistono delle forme di sostegno base, seppur parziali e limitate, che non esistono al di sotto di quelle fasce di età.